Perché quando viene uno da me, io dico quanti anni lavori, quanti dipendenti hai e poi le domande che vi ho detto prima, patrimonio personale e patrimonio netto aziendale. Finito. E da lì sono come il medico che dice queste sono le analisi e questo sei tu oggi. E' evidente che se lavoro da tanti anni e non ho un milione di euro messo via, c'è un problema. O se non guadagno almeno 100 mila all'anno lordi, c'è un problema. Questo è uno standard ragazzi, standard. Io non vendo illusioni, io sono l'imprenditore come voi. Non ho bisogno di vendermi niente. Per me sapere che sto cambiando il futuro di un certo numero di imprenditori e di un certo numero di famiglie che lavorano per questi imprenditori è una missione di vita assoluta.